Si gioca. Occhio qui al pallone giocato da Samaric, che prova il tiro, ancora Terracciano, vola di success, altro cross, si gioca, Lovric, colpo di testa! Camara, Pajero, ancora l'argentino, va dentro da Camara, che è veloce, accelera Camara, pallone dentro per Toven! Miracolo di Terracciano, un gol praticamente fatto!